nuova nuovissima puntata direttamente da san giminiano il panorama lo avete visto sono qui con il barabba san e il bacca san oggi giornata mascherata e anche molto calda e non so come ne veremo fuori ma noi ci proveremo a sopravvivere e intanto sigla ciao Siamo ai piedi del Duomo, sinceramente non pensavo ci sarebbe stato tutto questo casino dobbiamo portare sempre le mascherine perché altrimenti chi sarà c'è molta gente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti